A distanza di quasi 18 anni da questa foto, con la vostra guida dolce, sicura, preziosa e insostituibile, sono diventato grande. Grazie nonni, Andrea. È solo una delle tante dediche che nipoti, grandi o piccini, hanno inviato al quotidiano Libertà, con tanto di ricordi e momenti felici immortalati, per ringraziare i propri nonni. Oggi, 2 ottobre, ricorre infatti la loro festa. Altro che nonna sono, non capisco nonna, io ho 95 anni, si figuri lei. Buonissimo rapporto. Ti vai a trovare spesso? Sì, sì, tutti i weekend almeno. E quando eri piccolo ti curavano? Sì, sempre, stavo sempre con loro, mentre i miei erano a lavoro io stavo con loro. Sicuramente sono molto utili per continuare a lavorare entrambi, un aiuto serve. Dentro al cuore ci sono sempre, anche se non ci vediamo, ci sentiamo comunque. Uno ha già 22 anni, è la ragazza 19, per cui sono una nonna buona. I nonni sono insostituibili? Eh, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, guardi. Oggi è la sua festa, lo sa? Non lo sapevo, ne avevano parlato ma poi non mi ricordavo più che era oggi la festa. Quindi deve correre a casa a farsi festeggiare? Eh sì, eh, direi proprio di sì perché i nipotini sono importanti. Lei se li ricorda i suoi nonni? Moltissimo, moltissimo. Cosa rappresentavano per lei? Rappresentavano una sicurezza, un modo di essere più tranquilla e poi potevo giocare con loro, per cui mi divertivo moltissimo.